buonasera a tutti dal vostro grande capitano napoli e benvenuti in questo nuovo video a subito questa piccola introduzione ho fatto due brani al piano uno tutto il ritornello canzone famosissima di phil collis e groovy kind of love ed l'altra canzone farò solo l'inter fatto solo l'inter per il momento è quella di lucio dalla l'anno che verrà spero che vi piaccia ci vorrà appunto come ho detto quelle circa tre settimane per definire la mia canzone perché devo decidere la base musicale e il modo come cantarla la canzone che è il rugito del demonio soffio di dio comunque spero che gradite queste cose che sentirete subito poco pochi secondi vi auguro una buona serata dal vostro grande capitano napoli mi raccomando teniamo duro non spero non mancherà tanto di tornare gradualmente alla normalità mi raccomando una buona serata ringraziamento a tutti quelli che si stanno continuamente iscrivendo al mio canale buona serata dal vostro grande capitano napoli mettete un bel like a questo video e chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivete al mio canale buona serata ciao voglio buonasera a tutti dal vostro grande capitano napoli allora incominciamo buon ascolto buon ascolto buon ascolto